Non si non può divulgare il nome di persone. Correcto. Si, lo che mi ha trascinato è che ora non c'è la rappresentazione di diversi partiti, non, per lo che sta in defensa di Saitar, e Saitar è un punto che in verità sta questionabile ora qui. Qu'è in Tessunco che va a difendere realmente Saitar? Per lo che sta in tre partiti, non, è che come a mentionare, mirando che è passato tutto. Qu'è sta in defensa di Saitar? Qu'è sta in defensa di Web, di El Mar? Per il nostro sa qui cosa passa nella Argentina, un dato momento che va a privatizzare i overrheidsbedrivi non è qui. E dopo di tanto tempo di desastres di Saitar, che non c'è il risultato, ma c'è la compra back, lo che sta è controllo di riva, l'acqua e la corriente, nella Argentina. Che mi non sta facendo, e se mi dà vista, te pregunto non è qui, ma ti guardo così, e non c'è il debate, qu'è tre partiti non è qui. Com'è non sta parlando, qu'è overrheidsbedrivi non è? Non c'è l'acqua vendendo Saitar, non c'è il beneficio del Pueblo per sobrare. Saitar, tanto tempo di abusare del Pueblo, ora che gli dà di Dio, abri con il Digicel, comincia per una compagnia più, riduzza per il Pueblo. E a vendere, ancora, Saitar cobra caro, se non c'è la costa, roba barata, la tecnologia è roba barata a vendere, e tocca come un prezzo caro. Non c'è meglio vendere, per ora di barata, non c'è un compagnia, che non c'è un po'è un prezzo, ma sua mogli còn a qui, inados caro, in ogni domO. Sì! Ora che nel privamilyzazioni c'è un thiocatore, ma chア cautelam con un dato momento, se vuoi entregarsi fuori per le mani. Ora, lavoriamo colori per questo, non galaxy no mondo privato, che int �ossistano e This Osman 3000 non c'è un Tampa Unipiolio nuovo.